Quando si fa gol la pallina cade in un vano, un intercapedine che si trova dietro il portiere. Quindi per recuperarla è facilissimo, si inserisce la mano qui dietro e si recupera la pallina. Ci sono due bocchettoni per l'inserimento della pallina quando si inizia il gioco. In questo caso nella versione Evolution del G500 avrete inclusi oltre le 50 palline, i vietini di regolazione che vi permettono di regolare l'altezza o la pendenza se il pavimento non è perfettamente in piano, le maniglie in plastica ergonomiche, quindi con l'impugnatura per il pollice.